Un importante accordo per il controllo della qualità delle acque del fiume Noce è stato sottoscritto nei giorni scorsi da Arpab e da Gal, la cittadella del sapere. Tutti i particolari da Luigi Di Lauro. Fiume Noce sorvegliato speciale. Dopo le polemiche e le prese di posizione dei mesi scorsi sull'inquinamento dell'importante corso d'acqua, Gal, la cittadella del sapere e Arpab, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per il monitoraggio del fiume. I tecnici dell'Agenzia classificheranno le acque attraverso analisi a campione sui liquidi e sui sedimenti. Uno studio che in qualche modo potrà fornire risultati importanti anche sulla storia del fiume. Tra gli altri obiettivi del protocollo, anche il controllo del lago Sirino e del litorale marino in prossimità della costa di Maratea. Un lavoro complesso che coinvolgerà anche le scolaresche del territorio, che parteciperanno ai sopralluoghi programmati dall'Arpab per l'azione di monitoraggio. Questo è un accordo unico nel suo genere in Italia, è un accordo che servirà a salvaguardare e a monitorare il fiume Noce. Il Gal la cittadella del sapere ha stanziato per questo progetto, per questa iniziativa, circa 90 mila euro, soprattutto per cercare di dare vita e di naturalizzare questo corso d'acqua importantissimo per l'area sud della Basilicata.